rosso latino prodotto da abrivio è un ticino merlot del 2019 come i merlot tradizionali ha questi bellissimi aromi di ciliegie nere di mallo di noce di foglia dedera e una leggera speziatura che viene portata dalla maturazione in botti di rovere in bocca è un vino che ha questo primo approccio molto morbido delicati in bocca per i tannini che sono fini ben integrati e una persistenza media è un vino che fa della leggerezza il suo punto di forza e grazie a questo si può accompagnare a tutti i primi della cucina italiana a base di carne ovviamente delle carni rossi e leggere e perché no anche dei formaggi mediamente stagionati